Italia, anno 2023. Mentre il mondo si avvia inesorabilmente verso la recessione globale, smascherando la menzogna del denaro Fiat, un manipolo di pionieri si prepara a sovvertire l'ordine costituito. Noi siamo le orde di Satoshi Nakamoto, i cavalieri della time chain, le lacrime dello shitcoiner, l'oblio delle valute di stato, la lapide sulle carcasse delle banche centrali. Le nostre armi sono matematiche, il nostro vessillo è la tecnologia, il nostro è giunta l'ora, indomiti pirati e digitali, la nostra rivoluzione è già iniziata, è il momento di mostrare ai popoli il futuro che incombe, di condurli in salvo sino alle porte della nuova Arcadia. È il momento del Bitcoin Italia Podcast. Sigla. Benvenuti amici! Ciao! Gai Brash! Sì! Come stai amico mio? Bene! Sono carichissimo, mi sono riposato tantissimo in queste vacanze. Che emozione Gai Brash, che emozione! Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Primo episodio, quinta stagione del Bitcoin Italia Podcast. Lo diciamo Gai Brash? Lo diciamo? Cosa diciamo? Lo diciamo? Il primo podcast a parlare di Bitcoin in lingua italiana. Sì, lingua italiana aulica. Aulica, aulica, aulica. Siamo ancora indifferita dal Cloaca Studios. Bah, perché le buone abitudini non si cambiano, quindi non ci aspetteremmo niente di diverso da te, caro Gai Brash. Io sono ancora in Centro America, la missione Centro America 2022 però volge al termine. In questo momento vi sto parlando da Panama City, Ciudad de Panama, come si dice da queste parti, però siamo agli sgoccioli, siamo agli sgoccioli. Presto tornerò in El Salvador e da lì mi aspetta un treno merci, praticamente, per tornare in Europa. Faccio tre volte in giro nel mondo per arrivare a Milano. Comodo dai, El Salvador, Milano è un treno. A ferma Rogoredo. Non lo so. Non so, non si sa. Potrebbe tranquillamente fermare a Rogoredo. E, beh, Gai Brash, siamo pronti, siamo pronti carichi a bestia. Quinta stagione carica di aspettative. Io vi do alcune anticipazioni. Si sa già che Bitcoin verrà ucciso dalla mafia kazaka, probabilmente. La Cina ritirerà il bando del mining per poi rimetterlo qualche mese dopo, così tanto per sparegliare un po' le carte in caula, visto che la Cina è un po' che non dice niente. E Craig Wright farà causa a se stesso. Farà causa a Satoshi Nakamoto. A Satoshi Nakamoto, esatto. E guarda che tu adesso la butti sul ridere, ma sono tutte eventualità molto probabili. Perché ragazzi, cioè, non ci si annoia veramente mai. A proposito di non ci si annoia mai, Gai Brash, ti sei un po' riposato in queste vacanze natalizie? Beh, con difficulty adjustment a carico H24 sono state le vacanze più riposanti della mia vita. No, però dai, un pochino sempre meglio, devo ammettere. Devo ammettere che sì. La cosa buona è che non mi sono ammalato. Non mi sono ammalato. Buona per me, cattiva per l'andamento del prezzo. Esatto. Però sappiamo che il prezzo non conta niente. Esatto. Arriverà nelle prossime settimane il pegno che devo pagare per il maledetto scommesso del 2022. Ah, attenzione, perché ormai è stata consegnata. Allora. E quindi, e quindi, tocca pagare. Il mio team di avvocati mi ha dato la risponso finale. Quindi ho una modalità di esecuzione che secondo noi è compliant con la scommessa. Ah, quindi è compliant, me lo confermi. È compliant con la scommessa e però c'è un compromesso che verremo se verrà accettato. Molto bene, molto bene. Facci sapere quando avrai una lettera ufficiale da parte del tuo pool di avvocati. Facci sapere. Esatto. Una stagione è quella del Bitcoin Italia Podcast che si apre Guybrush con un sacco di cose fighissime che bollono in pentola e generalmente quando l'anno comincia con tutta questa propositività nell'aria vuol dire veramente che ce ne sarà veramente per tutti i gusti e ci aspettano veramente cose notevoli. Adesso non vi anticipiamo ancora nulla, però stiamo lavorando a dei progetti veramente straordinari per il 2023 Guybrush. Io sono già stanco. Esagerato, abbiamo appena iniziato. Ci mancano 45 episodi Guybrush per portare a casa questa quinta stagione. Quindi prosegui con la tua cura ricostituente. Però caro amico mio, prima di iniziare a parlare di quello che ci aspetta nelle prossime puntate e per questo 2023 mi sembrava giusto ribadire che cosa è stato ancora una volta il 2022. Nelle puntate conclusive della quarta stagione abbiamo fatto un'analisi del network, devo dire molto puntuale, raccontando ai nostri ascoltatori per quale motivo? Lo ribadiamo. Il 2022 è stato l'anno migliore di sempre per Bitcoin. Quando è uscita la puntata qualcuno su Twitter ci ha commentato mi piacete perché il vostro ottimismo è sempre illuminante. No, non è ottimismo, è un dato di fatto tecnologico e scientifico che il 2022 è stato l'anno migliore di sempre per Bitcoin. Poi se voi siete delusi dal prezzo è perché date troppo peso al prezzo. Il prezzo ha le sue logiche ma comunque lo ripetiamo segue lo sviluppo tecnologico inevitabilmente, magari non lo segue immediatamente. Però Guybrush noi siamo in base a quello che abbiamo visto succedere in Bitcoin nel 2022 super bullish, super bullish. Assolutamente sì, a me i numeri che mi hanno fatto girare la testa sono stati soprattutto quelli della crescita di Lightning Network. Questo è un fattore assolutamente positivo e poco discutibile, non controvertibile. La capacità dei canali, l'acqueditità, il numero di nodi e i pagamenti sono aumentati dell'80% mediamente. Quindi su questo c'è poco a discutere. E questo è vero, a maggior ragione Guybrush, se paragoniamo quello che è successo a Bitcoin negli ultimi anni con quello che è successo a tutto ciò che non è Bitcoin, ovvero alle shitcoin. Questa è la sezione che abbiamo chiamato le lacrime dello shitcoiner. E ci piaceva cominciare così per ribadire ancora una volta scientificamente, matematicamente, anzi meglio statisticamente. Perché ragazzi esiste solo Bitcoin e se voi ancora pensate per qualche motivo incomprensibile che ci possa essere altro che le shitcoin possono essere una risposta tecnologica a qualsivoglia esigenza, vi sbagliate di grosso, compratevi dei Kleenex perché vi aspettano calde calde lacrime. E questo non lo diciamo statisticamente noi del Bitcoin Italia Podcast ma lo dice il sito statistico Coin Kickoff. Coin Kickoff tra l'altro, non Maxi Pene Kickoff, cioè non è un sito di massimalismo, è un sito cripto, è un sito per criptobrows e quindi lo dico perché sembra sempre che noi si abbia un bias. Invece Coin Kickoff, sito di criptovalute, ha pubblicato recentissimamente una bellissima statistica che guarda al passato delle shitcoiner, aggrega come sono stati gli ultimi dieci anni da quando appunto più o meno le shitcoin esistono, per capire come è andata la parabola vittoriosa, vincente di queste miriadi di Bitcoin killer, le blockchain più sofisticate, quelle più rapide, quelle migliori, quelle che danno il 20-30% di cashback, quei progetti tecnologici destinati a spazzare via il vecchio, obsoleto, puzzolente Bitcoin. Bene, stando ai loro dati scopriamo che negli ultimi dieci anni il 91% delle shitcoin che sono state lanciate dal 2014, anzi scusatemi, dal 2013 ad oggi, sono fallite, morte o hanno ragpullato. Il 91% delle shitcoin sono defunte miseramente. Pensa Guybrush che gli anni di picco, oltre al primo market crash del 2014, però l'anno più bello in assoluto, quello dove ci siamo levati dalle balle più schifezze possibili immaginabili, è stato il 2017. Solo in quell'anno sono morte 704 nuove coin. Una precisazione, sono morte l'anno successivo, cioè loro dividono la statistica in due, per anno di nascita, quindi 704 di quelle nate nel 2017 sono morte, ma nell'anno di morte, diciamo, maggiore è il 2018. Sai perché faccio queste precisazioni? Perché nel 2018 è successa anche un'altra cosa importante per me e te, cioè ci siamo beccati e abbiamo fatto il nostro brainstorming tutto dall'estate all'inverno e abbiamo deciso di fare Bitcoin Italia Poca. Io proprio su quell'onda lì, era l'onda delle ICO, a inizio 2018 c'era stato il boom delle ICO su Ethereum, sostanzialmente tutti i token del cazzo su Ethereum. E in quel periodo lì mi ricordo la gente mi chiedeva, ah ma come facciamo? Dimmi, dammi qualche consiglio per diventare ricco. E lì è iniziato il mio percorso verso il massimalismo, perché a forza di raccontare sempre la stessa roba, vi ricordo poi abbiamo deciso insieme di fare, tu hai avuto l'idea del podcast ed è partita lì. Quindi effettivamente quell'anno lì è stato significativo anche per noi, al contrario, nel senso che a vedere tutta questa popò che è finita così nel nulla, tra l'altro la statistica è bella perché divide per bene anche tra quelle che erano delle minchiate, joke or no poor purpose, cioè senza così diciamo meme coin, oppure quelli che erano truffe, oppure quelli che hanno vissuto pochissimo o è fallita la ICO, oppure quelle che il volume è proprio a zero, il progetto addirittura è stato abbandonato. In quell'anno lì sono equivalenti praticamente tutte le tre cause. È brutto vedere che purtroppo quelle che erano truffe sono quasi 50%, quindi è una statistica imbarazzante, sì. Più che altro una statistica che dovrebbe fare accendere un cappallellino d'allarme a tutti coloro che probabilmente non ci stanno ascoltando, ma se lo stanno facendo ancora sono lì a spulciare fra i nuovi progetti, sfruffala, strappoz, spara, gnazzi. Tra l'altro stanno finendo i nomi perché… Stanno finendo i nomi e sono ancora lì disperatamente a cercare la grande occasione che sicuramente svolterà la loro vita senza accettare passivamente e logicamente il fatto ragazzi che tutto ciò che potete fare è rimboccarvi le maniche e staccare Satoshi come fanno tutti, metterli in cascena, con fatica, con impegno, risparmiando, perché è l'unica cosa che ha senso fare. Sì, sì, sì. È bello, la mettiamo nelle note della puntata anche perché ci sono due infografiche facilmente comprensibili. Molto carine, molto carine. Molto carine, Guybrush. L'unica cosa che vorrevo aggiungere a questa nostra sezione iniziale è proprio per dare esattamente il contrasto fra queste due realtà. Mentre in questo periodo di tempo nel mondo delle shitcoin succedeva quello che è successo, che vi abbiamo appena descritto, mi sembra bello contrapporre quello che è accaduto in Bitcoin perché in questo periodo Bitcoin non solo è cresciuto, il suo hash rate ha continuato a crescere in perterrito nonostante i momenti di crisi. Siamo a 270 esahash al secondo stando a hash rate index il più alto, il top di sempre da questo punto di vista. Più di un milione di indirizzi che contengono un Bitcoin o più, sapendo oltretutto che molti Bitcoiner saggiamente frammentano il loro coin in più indirizzi, quindi questo è un dato che pur essendo ottimo è da prendere con le pinze, 14 trilioni di dollari di transazioni l'anno il volume del Bitcoin network, 13.900% di crescita dal 2015 ad oggi, 13.900% ragazzi, il volume più basso di sempre di Bitcoin conservati sugli exchange analizzando la blockchain, quindi altro segnale iperpositivo significa che finalmente il concetto di self custody comincia ad arrivare, comincia ad entrare nella testa di tutti coloro che hanno a cuore la loro indipendenza e i loro risparmi in Bitcoin. Ecco, da un lato c'è il disastro e l'inutilità delle shitcoin conclamato in precisi dati matematici e statistici e dall'altro c'è la chiara vittoria dell'unico protocollo distribuito open source secondo sempre dati matematici e statistici. Eh sì, quello che dicevamo a fine anno lo ribadiamo a inizio anno, i numeri parlano chiaro. Allora, noi stessi nel nostro piccolo possiamo confermare di essere cinque anni ormai che facciamo andare e sosteniamo la nostra attività divulgativa grazie a Bitcoin, grazie al nostro full node, grazie al nostro lightning node, facciamo le nostre transazioni, riceviamo donazioni, quindi funziona tutto e sta scalando. Certo, nei dibattiti su Twitter possiamo criticarlo quanto vogliamo e dire ah non scalerà, non scala abbastanza velocemente, non scala abbastanza spazialmente tutte le varie minchiate che si andiamo a dire, ma la verità dei fatti è che sta funzionando sempre di più giorno dopo giorno e quindi più di più di numeri e testimonianza in prima persona non credo ci sia altro tanto da dire. Certo è che la strada è ancora lunga e si può ancora migliorare. Ricordiamo a tutti coloro che vogliono già vivere nel Bitcoin standard che il modo migliore per farlo è Bitrefill, il sito dove potete acquistare un botto ragazzi di gift card per i vostri negozi online preferiti, per il vostro supermercato sotto casa. Andate su bitrefill.com per vedere quali e quante gift card potete acquistare per pagare comodamente in Bitcoin nel mondo reale anche presso i tanti purtroppo negozi e attività che ancora Bitcoin non lo accettano. Andate a provare a fare un acquisto su Bitrefill per capire quanto è rapido e semplice. Bitrefill ovviamente implementa il Lightning Network quindi il vostro acquisto è letteralmente istantaneo. Parlando di Lightning Network per la vostra azienda i servizi Lightning Network migliori sul mercato sono quelli di Ibex. Andate sul sito Ibex Pay o Ibex Mercado trovate il link nelle note dell'episodio per rendervi conto qual è la incredibile gamma di servizi che Ibex è in grado di offrire sul Lightning Network per la vostra azienda. Ibex è l'azienda che gestisce tutti i pagamenti Lightning delle conferenze di Miami e Amsterdam, le più grandi conferenze Bitcoin al mondo. Letteralmente migliaia di transazioni in quei giorni allo stato dell'arte assolutamente istantanee. Bitcoin cresce anche grazie al lavoro dedicato di aziende come Bitrefill e come Ibex. Caro mio, caro mio, caro mio, caro mio, allora abbiamo parlato in apertura di questo nostro primo episodio dell'acquista stagione di quanti dati positivi ci siano sul tema della self custody, no? A furia di farsi inchiappettare duro duro dagli exchange centralizzati, la gente comincia anche a capirla questa roba, no? Eh sì, eh sì. Quello che manca e che è dibattito a tutti i livelli ormai ho notato, quindi da il più tecnico e astratto al più terra terra divulgativo, il concetto di self custody sta entrando pesantemente nelle nostre orecchie e volevo fare un appello ai nostri ascoltatori più affezionati perché se ci seguite come vediamo da ormai cinque anni e siete ormai diventati tanti, ci siamo visti alle conferenze eccetera, avete una responsabilità non tanto nei nostri confronti ma nei vostri e in quelli che vi conoscono perché dopo tutto il lavoro fatto insieme ho notato che tanti di voi sono migliorati, ci raccontate, ah io ho comprato, ci mandate la mail, ho comprato Bitbox, grazie, sto ritirando tutto, oppure nel nostro Lightning Note vediamo spesso mia prima transazione Lightning, grazie. Che bella che è quel messaggio lì quando lo riceviamo. Allora cari amici, armatevi di santa pazienza e cominciate a divulgare voi stessi nel vostro piccolo, rompete le palle a vostro fratello, a vostra sorella, al vostro amico, ditegli quando sentite frasi del tipo token, crypto, arrabbiatevi non in stile ricchi perché potrebbe essere troppo ma arrabbiatevi come volete voi e proteggete i vostri amici, i vostri conoscenti, i vostri parenti dal crypto scam. Se conoscete gente, io continuo a dirlo a tutti i miei amici, ce ne sono alcuni che sono duri a morire, a ritirare i propri, convertire le vostre shitcoin in bitcoin e prelevarle in un hardware wallet, in un cold wallet e iniziare il percorso che è effettivamente al momento attuale, non semplice, un pochino in salita verso la self custody totale. Quindi un filo conduttore che vorrei proporre io per la quinta stagione è questo, affrontare in ogni puntata diverse modalità, diversi aspetti del tema self custody. Cosa ne pensi Ricchi? Sono d'accordissimo perché credo che assolutamente sia uno dei temi centrali e in questo 2023 ci piacerebbe davvero riuscire a snocciolarlo in maniera molto analitica in modo che anche gli ultimi scettici finalmente prendano possesso delle proprie chiavi private e tutelino così rifacendo la loro totale indipendenza. Allora, il concetto di self custody ha una sua curva di apprendimento che non è dolcissima, soprattutto all'inizio. Noi sappiamo che si decanta tanto la potenzialità del lightning network, però al momento attuale, volendo essere sinceri al 100%, il lightning network viene utilizzato soprattutto in maniera custodial. Cioè si scarica il wallet, tanti wallet offrono il servizio istantaneo senza che debbano gestire sul tuo dispositivo un lightning node a tutti gli effetti, ma creano un conto virtuale e gestiscono loro i tuoi canali, la tua liquidità in ingresso, in uscita e i tuoi pagamenti. Quindi l'esperienza più semplice, più facile è questa qui di fatto al momento attuale. Scarichi il lightning wallet, ci carichi qualcosa con la carta di credito o con una transazione on chain e inizi a usarlo e va già bene anche così perché io dico non dobbiamo essere troppo integralisti con il percorso self custody, non dobbiamo pretendere che domani ogni persona diventi in grado di gestire il concetto di al 100% subito. Possiamo passare per diversi livelli di compromessi tra sicurezza, privacy e appunto fiducia nell'intermediario terzo. Questo va a costruire un sistema di private banking proprio. Con bitcoin abbiamo finalmente l'opportunità di diventare padroni di noi stessi sempre di più, cioè non da 0 a 100 in un giorno come vi ho appena detto, ma gradualmente magari è creare il nostro sistema bancario, finanziario e monetario che più ci aggrada, che più si adatta al nostro stile di vita, che più si adatta alle nostre competenze informatiche economiche. Insomma è anche un processo di apprendimento di altri settori, non solo tecnologico, ma che va nella strada della indipendenza monetaria e finanziaria eccetera eccetera. Quindi il concetto di self custody si espande un pochettino al concetto di private banking. Per questo vi volevo dire che all'inizio non spaventatevi se c'è tanta differenza tra quello che vi abbiamo raccontato in maniera teorica, cioè la seed phrase, le chiavi pubbliche, le chiavi private, le transazioni on chain e quello che poi provi diciamo empiricamente scaricando il lightning wallet. Possono sembrare due cose completamente diverse, ma in realtà sono due aspetti sempre dello stesso concetto, cioè quello che potrebbe essere una frammentazione dei vostri fondi o di quello che decidete di iniziare a allocare in bitcoin. Esattamente come adesso avete un conto in banca con il suo IBAN e una carta di credito o di debito con il quale prelevate il terminale automatico e dei contanti nel vostro portafogli. Poi nel mondo odierno si hanno poi diversi conti, i crediti, il conto Paypal, il conto Revolut eccetera, si hanno diversi punti in cui si accumulano. Allo stesso modo si possono frammentare i fondi anche nell'ecosistema bitcoin. Per esempio quello che è il vostro conto in banca, quello che riceve magari il vostro stipendio e dalla quale non è che quando uscite al ristorante vi portate dietro tutto il vostro conto in banca, avete un accesso remoto il vostro conto in banca? Beh quello potrebbe diventare il vostro cold wallet del quale non mettete le chiavi private, la seed phrase su dei server online, non ve la tenete scritta su un foglietto nel portafogli, state attenti a non perderla, avete un backup. Di questo possiamo parlare a lungo poi di metodi di conservazione della seed phrase e poi da lì spostate delle piccole quantità sul vostro wallet lightning per esempio che vi ricordo potrebbe essere anche considerato in maniera disposable cioè usa e getta. Vi faccio un esempio. Ricky è andato a fare il viaggio e la missione Centro America. Lui potrebbe avere deciso di fare così. A Panama testare che ne so Breeze wallet, si lo scarica, se lo installa, si fa una transazione on-chain, si carica che ne so 200 euro e poi va in giro per Panama a usare Breeze. va via da Panama a ricchi, chiude, disinstalla Breeze perché magari i fondi lì li ha spesi tutti oppure lì ripreleva, arriva in Costa Rica, si installa, non so, un altro wallet lightning di Manetofi. Wallet of Satoshi. Wallet of Satoshi. Custodial. Si rimette lì un altro, cioè voi tutte le volte potete usarlo come se stesse cambiando portafogli, capito? Non siete committati con procedure di KYC, fornitura dati, documenti. Questa cosa può essere molto disposable e usa e getta. Assolutamente. Tra le altre cose è esattamente quello che faccio. Eh appunto. Avete diversi compromessi, cioè dalla parte on-chain, quindi quello che è il vostro conto in banca, la maggioranza dei vostri fondi, diciamo sicurezza canonica, bitcoin, seed phrase, cold wallet, magari hardware wallet, quindi signing device, quindi dispositivo che firma queste transazioni e non lo connettete mai. Lato invece, spese di tutti i giorni quotidiane, cedete un po' di sicurezza e di privacy, nel senso che se perdete il vostro telefono perdete i fondi o se usate un wallet custodia perdete un po' di privacy o cedete un po' di fiducia. Quindi non è obbligatorio che l'approccio sia quello subito del massimalista 100% che fa coin join. Può essere graduale questo percorso. Ma anche perché Guybrush? Eh sì, cioè se poi... Sei la prova vivente di come questa metodologia funzioni bene. Tu fai esattamente così. Io faccio esattamente così, ma soprattutto la questione della custodia, secondo me, va declinata in maniera corretta e non fanatica. Cioè quando uno viaggia, come facciamo noi per esempio, bisogna vedere quali sono le sue esigenze, qual è la cosa che mette in cima le proprie priorità, no? Per esempio io quando viaggio, soprattutto per esempio quando sono in El Salvador, che già ho problemi dall'altro lato perché sta facendo transazioni verso il cibo wallet che fa schifo e quindi chissà dove finisce la mia transazione Lightning. Io lì la mia priorità diventa quella di utilizzare dal mio lato un wallet Lightning che sia di una rapidità e di una efficienza incredibile. E dal mio punto di vista, per mia esperienza personale, questo wallet ad oggi è Wallet of Satoshi. Io non ricordo una transazione di Wallet Lightning con Wallet of Satoshi, anche di importi abbastanza considerevoli, quindi per il Lightning Network ovviamente. Quindi diciamo transazioni sopra i 150, le 150 dollari in Fiat, diciamo, quando paghi la notte in albergo o le notti in albergo. Io non ricordo una sola transazione fallita su Wallet of Satoshi. Ecco, io in cambio di un servizio così ottimizzato lato utente, sono ben contento di cedere la custodia momentaneamente. Perché tanto io su Wallet of Satoshi, mica ci tengo i miei risparmi, hai ragione tu quando lo paragoni a un portafoglio. Cioè, sul Lightning Network io metto quei soldi che voglio spendere oggi e domani, mica ci metto tutto il monte di Bitcoin che ho portato via per il viaggio. Io ho il mio hardware wallet, il mio Bitbox 02, quando viaggio che è la mia, tra virgolette, cassetta di sicurezza. O se preferite il mio conto in banca. E quando devo uscire mi mando sul Lightning Network i soldi che spenderò per la giornata, per le due giornate e per le tre giornate. Esattamente come se avessi una cassaforte in casa con dentro dei contanti, mica esco con 1000 euro in contanti. Apro la cassaforte tiro fuori 100 euro che sono quelli che mi servono per uscire a bere la sera con i miei amici e se mi rubano il borsellino, vabbè, mi incazzo ovviamente perché non è che mi fa piacere, però mi hanno rubato 100 euro, mica mi hanno svaleggiato la casa. E lo stesso è con la fiducia che io in quel caso ripongo al provider di servizi Lightning che diventa Wallet of Satoshi in quel momento. Poi, per carità, sono sicuro che nei prossimi anni ci saranno dei wallet non custodial capaci di gestire in maniera perfetta la liquidità sui canali e il routing dei canali e che quindi riusciranno a garantire lo stesso rate di successo di Wallet of Satoshi oggi. E allora in quel caso ovviamente a parità di servizio magari preferirò anche per quello un servizio non custodial, però in questo momento sono ben felice di cedere un pochino di sovranità con pochi Satoshi in cambio di un servizio allo stato dell'arte. È ovvio che non terrò mai i miei risparmi in un servizio del genere. Ecco, esatto. Questa è il core della discussione, cioè entrare a far parte del mondo Bitcoin da zero. Noi vi abbiamo dato tanti spunti, tanti suggerimenti, vi abbiamo consigliato. Ci rendiamo conto che per esempio per uno che vuole acquistare dei Bitcoin ma non lo ha mai fatto, partire subito con un exchange peer-to-peer potrebbe sembrare uno scoglio, potrebbe sembrare una truffa, potrebbe creare diffidenza o difficoltà e quindi vi abbiamo per sempre proposto un compromesso che è per esempio i Bitkipi e l'acquisto KYC Lite. Quindi forse il primissimo scoglio da superare è questo, capire e voi ascoltatori del Bitcoin Italia Podcast dovreste averlo già capito abbastanza e quindi potresti iniziare a trasmetterlo a chi non l'ho ancora capito perché è importante iniziare a ragionare in Bitcoin, pensare a se stessi come inseriti in un contesto di sistema monetario differente da quello fiat, da quello standard, da quello che abbiamo sempre vissuto. Da lì in poi arrivano i primi passi pratici. Quindi il primo di solito è l'installazione di un wallet on chain, quindi parliamo, potrebbe essere Bitkipi ma ce ne sono tanti, Electrum, Exodus, ce ne sono veramente tanti o l'acquisto di un hardware wallet e generare la famosa frase, seed phrase, le famose 12-24 parole. Oggi volevo raccontarvi una parte un pochino più tecnica rispetto a queste 12 parole. È un aspetto che forse non avevo raccontato ma che esiste da tanti anni ormai in Bitcoin. Queste 12 parole sono il seme, rappresentano un numero dal quale il vostro wallet è in grado di derivare tutti gli altri numeri che poi vengono convertiti in chiavi pubbliche, le cosiddette chiavi pubbliche che sono effettivamente gli indirizzi che operano sul network di Bitcoin. Le chiavi, vi ricordo, sono dei numeri, dei numeri molto grandi ma pur sempre dei numeri compresi circa tra 0 e 10 alla 77. Quindi ha tutti gli effetti dei numeri, grandi ma numeri. La passphrase è un altro numero a sua volta che dà indicazioni al wallet di come generare tutti i numeri successivi che a cascata rappresenteranno gli indirizzi del vostro conto, del vostro wallet. Quindi si dà molta importanza a questa seed phrase perché chi entra in possesso, chi possiede questa seed phrase è in grado di generare sia in uscita che in ingresso, quindi sia spendere sia controllare i vostri fondi in maniera totale. Quindi di fatto rappresenta, la seed phrase rappresenta il possesso effettivo, il diritto effettivo di spendere Bitcoin sulla blockchain. Per questo esistono tanti modi di proteggerla, di conservarla, di spezzarla, di dividere il potere in wallet multifirma, quindi di non essere l'unica persona in grado di poter operare e via dicendo. Ma una molto semplice in realtà che è nativa del protocollo è la cosiddetta passphrase, ovvero su Electrum per esempio è abbastanza semplice perché te lo chiede, cioè a un certo punto c'è una finestra che ti chiede, vuoi generare una passphrase? Se la lasci vuota non la generi, se invece ci scrivi una parola tu, da lì in poi il wallet genera un altro set di indirizzi. Cosa significa? Che se voi, ogni seed phrase sostanzialmente così come la guardate, quindi le dodici parole, prendiamo l'esempio del dodici che è più facile, le dodici parole sono una seed phrase con passphrase vuota, cioè sono un elenco di dodici parole a cui ne viene aggiunta una vuota. In informatica il concetto di stringa vuota ha senso, magari per chi non è informatico il concetto è senza passphrase, ma in realtà è una stringa vuota. E da lì il wallet genera il set di indirizzi che andrà a controllare, con il quale voi firmerete le vostre transazioni. Nel caso in cui aggiungete una passphrase, si aggiunge una tredicesima parola che non fa parte delle famose 2048 standard che sono sempre quelle che sono comuni a tutti. Può essere una parola che scegliete voi, che sapete solo voi. Può essere una parola complicata, oppure anche proprio una classica password che scrivete con simboli, numeri, eccetera, eccetera. Questa passphrase, questo codice che sapete solo voi, non rende invalida la seed phrase iniziale, le dodici parole iniziali. Ne crea semplicemente una nuova. Questo crea diverse applicazioni interessanti perché in primo luogo voi potete decidere che da una seed phrase, a seconda della passphrase che aggiungete, della tredicesima parola che aggiungete, create conti diversi, per esempio per la vostra famiglia, per i vostri familiari, oppure per voi stessi. Potete dire la mia seed phrase più la parola pippo pippo 123, ecco non usatene una così semplice, usate una più complicata, genererà gli indirizzi che io utilizzerò per la mia attività in Centro America. Poi Ricky torna, adesso prendo sempre te come esempio. Certo, è facile, esatto. Ricky torna dal Centro America e dice va bene, la mia attività in Centro America è finita, adesso sono tornato in Europa, prendo la stessa seed phrase, cambio la tredicesima parola, metto pippo pippo 456 e da lì il mio wallet genera un nuovo set di indirizzi che andrà a controllare, vuoti ovviamente all'inizio, con la quale io potrò gestire tutto una sorta di un altro conto. Quindi è come se voi, con questa tredicesima parola, che conoscete solo voi, quindi che rende ancora più protetto, ancora più sicuro l'utilizzo del network, potete separare in conti stagni, molto separati tra di loro, assolutamente diversi e scorrelati, usando la stessa seed phrase. Questo crea anche un altro caso di utilizzo che è in merito alla sicurezza. Per esempio, ipotizziamo che voi decidiate di stampare sul metallo, di forgiare sul metallo la vostra seed phrase iniziale, le vostre dodici parole, perché così le nascondete in un punto che sapete solo voi. Così anche in caso di incendio, poi andate tra le macerie, recuperate e il titanio di dove avete scritto la vostra seed phrase non si è rovinato. Però, se lo trova qualcun altro, potrebbe fregarvi tutti i fondi. Ma potreste voi aver deciso di non usare la seed phrase scritta lì, ma di usare la seed phrase più la tredicesima parola che sapete solo voi. Se proprio non riuscite a memorizzare dodici parole, non tutti ci riescono, beh, almeno una abbastanza complicata riuscirete a trovarla. Si spera. Quindi a memorizzarla. Altrimenti, ragazzi. Esatto. Una cosiddetta master password. Se utilizzate un password manager, per esempio, dovreste già essere già abituati a proteggere tutte le vostre credenziali online con una passphrase molto complicata. Ne vi dovrete ricordare una, al massimo due. Cosa crea questo? Un simpatico effetto di plausible deniability. Ovvero, ipotizziamo di essere in un contesto iperparanoico e non vi fidate neanche del collaboratore domestico che vi viene a fare le pulizie in casa. Perché dite, questo se mi trova la passphrase nascosta nell'intercapedine mentre pulisce le fessure tra le piastrelle, mi fotte tutti i bitcoin. Beh, se voi avete protetto con una passphrase le vostre dodici parole, la persona importerà nel proprio wallet le dodici parole, ma magari non troverà niente, troverà zero bitcoin. Perché, per ottenere il set di indirizzi che voi utilizzate veramente, deve conoscere anche la tredicesima parola. Ma vi dico di più, plausible deniability potrebbe servire anche a diminuire l'incentivo nel proseguire la ricerca di un malintenzionato. Perché voi potreste dire, nella seed phrase iniziale, metto dei fondi così, dove mille euro, così faccio vedere che c'è qualcosa. Ma il restante, il 95% dei restanti fondi, li metto nell'uole controllato dalla seed phrase più la tredicesima parola. In questo caso, già avete una plausible deniability, cioè una negazione plausibile, cioè dite, questi erano tutti i miei fondi, tutto quello che avevo, mi hanno fottuto tutto, ciao, il ladro se ne va contento, e invece voi, la maggior parte dei vostri fondi, li avete protetti. Questo è un esempio di compromesso, di sicurezza, che potreste fare nel gestire il vostro, nell'iniziare a gestire il vostro private banking. Però Guybrush, oltre a questo effetto qui, che siamo d'accordo, è utilissimo, però se vogliamo è un po' paranoico, a me piacerebbe anche dire questa cosa. Io ad esempio trovo che questa funzione sia estremamente comoda, perché di fatto quindi, tu a un unico set di chiavi private, aggiungendo una serie diversa di passphrase, questa cosa ti consente di avere come infiniti conti in banca diversi, collegati sempre allo stesso set di chiavi private. Quindi le vostre chiavi private stanno nascoste, da qualche parte. Però è molto comodo, per esempio, per dividere i vostri bitcoin e proteggerli meglio, perché uno può, anziché aprirsi tre wallet diversi, per distribuire i propri risparmi, in modo da creare entropia, e renderli quindi più sicuri. Però, tre set di ventiquattro parole, quattro set di ventiquattro parole, non muore nessuno, per carità. Però possono essere già magari più complicati da nascondere, da trascrivere, da gestire. Uno può nascondere i propri bitcoin dietro lo stesso set di chiavi private, ma con magari tre passphrase diverse, quattro passphrase diverse. Una magari libera, quindi sul wallet senza passphrase, per creare quell'effetto che dicevi anche tu, ma il 25% dei nostri bitcoin sotto una passphrase, il 25% sotto un'altra, e così via per quattro passphrase diverse. È estremamente comodo. Esattamente, esattamente. Questo potrebbe essere il primo passo per entrare nel mondo della self-cast, di iniziare a gestire in questa modalità i vostri fondi che decidete di allocare. Da lì in poi si aprono innumerevoli modalità di conservazione della seed phrase, di gestione, di trasferimento a un wallet di utilizzo più quotidiano, che potremmo cercare di approfondire durante tutta la quinta stagione. Però è importante, perlomeno, superare questo scoglio iniziale. Una modalità molto semplice potrebbe essere, per esempio, acquistare i vostri primissimi bitcoin con Pocket Bitcoin. Prima grande novità del 2023, salutiamo Pocket. Pocket è un servizio per acquistare bitcoin con procedura di KYC Lite, ma che ha una particolarità che noi adoriamo. Vi consente di ricevere i bitcoin che avete acquistato direttamente sul vostro wallet, anche sul vostro hardware wallet. Il sito di riferimento è pocketbitcoin.com. Andatevelo a vedere. Troverete sul sito un'opzione per collegare il sito di Pocket direttamente, ad esempio, al vostro Bitbox 02. Tanti di voi, lo sappiamo, avete acquistato grazie ai nostri consigli Bitbox 02. Questa procedura automatica è semplicissima. Basta un click sul sito di Pocket e l'applicazione del vostro Bitbox 02 si aprirà in automatico e Pocket richiederà al vostro hardware wallet una chiave pubblica. Fa tutto automaticamente. Poi potete procedere con l'acquisto che è un acquisto KYC Lite tramite bonifico bancario perché Pocket è un'azienda svizzera e che quindi vi consente di acquistare Bitcoin senza chiedervi dei dati e riceverli direttamente sul vostro Bitbox 02. Comodissimo, ragazzi. Benvenuto a Pocket. A proposito di self-custody che non è un concetto facilissimo, ci rendiamo conto con la sua curva di apprendimento e tutto quanto, ma non è neanche un percorso impossibile e lo faremo insieme durante la quinta stagione, ci giunge notizia come un pesce in faccia o come una torta sulle chiappe che altre analogie Una roba incredibile. Una roba incredibile. Un noto sviluppatore Bitcoin Core attivo nell'ecosistema dal 2011-2012 Un OG, un OG vero. Un OG. Luke Dashir è stato vittima di un furto di chiavi private a quanto pare, sua detta, di chiavi private da un server di casa sua e quindi ha testimoniato, ha aperto una tempesta su Twitter perché ha fatto vedere che è stato derubato di circa 200 Bitcoin. Niente male, niente male. Io ti sento che tu sei prudente su questa cosa perché tu non ci credi, dici la verità. Allora, allora sì, ho indagato il più possibile, tra l'altro andando anche a guardare un pochettino l'euristica della transazione che lui ha segnalato è lo stesso. Lui dice questi 200 Bitcoin sono stati coinjonati a questo indirizzo. Sono andato a guardare un po' l'indirizzo in diversi block explorer e nessuno di questi me lo fa vedere come coin join. Effettivamente non sembra per niente un coin join. Anzi, block stream explorer dice proprio probably self transfer. Con questo cosa voglio dire? Che Luke Dashir è sviluppatore tra l'altro di un full node, di una versione di un full node Bitcoin Nots. Sviluppatore di diversi tecnologie peer-to-peer da Direct Connect cioè attivo proprio dai primi anni 2000 nel settore della tecnologia peer-to-peer e della sicurezza informatica. Noto paranoico informatico io non voglio smentire la sua versione del suo boating accident però mi sembra veramente strano che proprio lui sia stato vittima di un furto di questo tipo. Cioè da come l'ha descritto lui l'attore che ha creato questo incidente siamo a livello di Mossad o servizi segreti di uno stad Nord Corea capito? Cioè difficilmente posso pensare che lui è stato preso di mira come dice lui ma da qualcuno di veramente bravo per fare quello che dice secondo lui che è successo. Lui pensa che nella gestione del download dei pacchetti lui aveva allora intanto diciamo che lui aveva salvato crittograficamente pretetti da una chiave una sitphrase su uno dei server che stava residente in casa sua ma che era connesso a internet. E questo è un errore Guybrush. E questo è sempre un errore. da uno G una rospata di questo tipo non ce la si aspetta posso dirlo. Anche perché non serve non serve sostanzialmente a niente salvarla anche se è crittografata che cazzo te la sa come backup non lo so allora salvala su un on-disc offline se proprio vuoi tenerla in maniera digitale. è un errore ma per questo ti dico che mi sembra strano vabbè però forse ha peccato di hubris come dicevano i greci uno così esperto così capace di padroneggiare questi strumenti informatici pensa di sapere gestire alla perfezione il proprio il proprio server in casa è sicuro dell'algoritmo crittografico che ha usato per proteggere quella specifica informazione ma come ci dici sempre tu in informatica di sicuro al 100% non c'è niente no non c'è niente ci sono tanti compromessi probabilmente lui pensava di non poter essere un obiettivo così di valore per qualcuno così in grado di fare quello che lui stesso sospetta e cioè che gli hacker siano stati silenti cioè abbiano bucato il server in un determinato momento X e poi abbiano utilizzato diverse tecniche di keylogging di altre tecniche di esfiltrazione dei dati per andare a riuscire a decifrare le chiavi private e poi a un certo punto trasmettere però io ripeto mi sembra veramente veramente strano e conoscendo lui perché seguendo tutto il suo approccio alle cose alla vita tra l'altro lui si lascia a commenti anche politici di diverso tipo insomma quindi la sua forma mentis non è nascosta è un personaggio se si vuole esagerare pubblico nel settore secondo me si configura con il personaggio l'estrema paranoia di dire ok io sono un target possibile perché sono un bitcoin sviluppatore pubblico e parte dei miei fondi è nota perché io stesso durante gli anni ho pubblicato alcune chiavi private quindi si sa quello che ho o non tutto ma gran parte è il momento di proteggere me e la mia famiglia da possibili minacce future quindi creo un boating accident che non è stupido come quello di Craig Wright ma è in linea con il suo la sua dialettica la sua narrativa quindi hacker chiavi pubbliche coin join eccetera eccetera quindi potrebbe aver creato questo sistema perché veramente a me mi sembra proprio molto molto strano che in un contesto di sviluppo e di sicurezza così l'errore possa essere stato davvero tenere una seed phrase o un set di chiavi private tra l'altro lui dice proprio nei commenti successivi dice quando ho generato questi indirizzi non c'era ancora la seed phrase quindi era proprio un set di chiavi private quindi boh non lo so non lo so non lo so io tu come la vedi tu come la vedi io non la vedo da questo punto di vista nel senso che non ho anche a me è sembrato strano all'inizio però poi ti devo dire la verità mi baso su quello che mi è stato riferito ho avuto modo dopo l'evento di parlare con altri OG molto vicini a Luke Dashir io Luke Dashir non lo conosco e anzi non ci siamo mai incrociati però conosco delle persone che gli sono amiche e che mi hanno confermato che è tutto vero oltretutto Luke sembra essere viene considerato da chi lo conosce una persona di una trasparenza e di una correttezza quasi infantile e quindi quello che mi è stato detto è guarda che proprio il boating accident non è nella strategia di Luke Dashir detto questo non posso naturalmente escludere il fatto che i suoi amici vogliano o stiano coprendo il boating accident o che lui furbescamente a copertura del suo boating accident abbia mentito diciamo tenuto la parte anche con i suoi amici più intimi poco importa devo essere sincero perché quello che ci insegna questa vicenda ragazzi è mai le vostre chiavi online per nessun motivo non importa quanto pensiate di riuscire ad essere in grado di proteggerle sono delle informazioni vitali non sensibili e quindi sempre in cold storage mai sul vostro password manager mai sul vostro telefonino mai fotografate mai su un server domestico mai se proprio volete tenerle in digitale su un su un hard disk che non collegate mai ma posso dirvelo nemmeno ragazzi siate vintage da questo punto di vista tenetele in analogico più copie in analogico in modo tale da stare veramente veramente tranquilli ecco allora l'unica cosa che mi dispiace di tutto questo che sia veramente un stratagemma così topotaxi per proteggersi e dire anche all'agenzia delle entrate non ne ho più di 200 bitcoin me li hanno rubati non ce li ho più il problema è che tutti i bitcoin soprattutto il creativo Udi Wirtmeier ha subito detto ecco visto la self custody non fa neanche per chi scrive il codice di bitcoin da così tanti anni è troppo difficile dobbiamo rinunciare alla nostra non è così in realtà non è così però purtroppo questo è un incidente che rema un po' contro a quello che diciamo sempre anche se come ha detto appena Ricchi la contromisura non è così difficile non tenete le vostre chiavi il vostro seed phrase in un dispositivo collegato online tutt'al più utilizzate per esempio un hardware wallet il migliore quello che vi consigliamo è bitbox 0.2 sviluppato dall'azienda svizzera shift crypto è un piccolo prodigio di sicurezza informatica soprattutto nella versione bitcoin only che è quella che vi consigliamo noi ormai lo sapete andate sul sito dell'azienda shiftcrypto punto ch per conoscere tutte le caratteristiche di bitbox 0.2 nel dettaglio la sicurezza dual chip la praticità dell'app con cui gestite i vostri bitcoin la comodità a proposito di backup di avere una copia della vostra seed phrase salvata su una scheda micro sd che è comodissima da nascondere più schede micro sd perché ovviamente bitbox 0.2 ha una porta e quindi voi potete tranquillamente salvare una copia della vostra seed phrase su che ne so tre schede micro sd che veramente ragazzi potete nascondere dovunque nella vostra casa perché sono davvero piccolissime e quindi dal nostro punto di vista bitbox 0.2 è un investimento necessario per tutelare i vostri bitcoin perché vi garantisce la migliore protezione possibile la migliore oggi sul mercato a un prezzo che per la sicurezza dei vostri fondi dei vostri risparmi è veramente irrisorio a maggior ragione irrisorio perché col codice bip show avete diritto anche al 5% di sconto prendetevi cura dei vostri bitcoin adesso acquistando un bitbox 0.2 bitcoin only ma mi racconti qualcosa che io purtroppo non sono riuscito a sentire le puntate di natale e quindi non so dove sei sono a panama molto curioso la prima volta che vengo da queste parti del mondo nel punto più a sud della nostra spedizione in centro america sulle tracce di bitcoin quest'anno se ti sei perso le puntate di natale se vi siete persi le christmas edition andate a riascoltarvele voi che ci ascoltate e anche tu guy brush perché descriviamo nel dettaglio la bitcoin jungle del costa rica che è stata una figata pazzesca dalla bitcoin jungle da uvita in costa rica abbiamo preso un autobus che ci ha portati appunto qui in qui in panama qui a panama e siamo molto curiosi eravamo molto curiosi di vedere panama per capire come bitcoin si sta muovendo si sta comportando in un grande hub finanziario nel paradiso in uno dei paradisi fiscali più famosi del mondo dove un crocevia grazie al canale di commerci da dove passano miliardi e miliardi di dollari tonnellate tonnellate di merci e dove lo stato ha un framework normativo che potenzialmente è molto bitcoin e crypto friendly perché panama ha una costituzione molto particolare unica nel suo genere pensa che c'è un passaggio della costituzione che di fatto nega il legal tender cioè la costituzione panamense dice che i cittadini sono liberi di scegliere la valuta che preferiscono e che lo stato non può imporre ai cittadini nessuna valuta preferenziale è il motivo per cui quasi naturalmente anche se ovviamente c'è stata una fortissima ingerenza economica e politica di fatto panama è il primo stato dollarizzato dell'america centrale con ovviamente il benefit che quindi è stata un'economia protetta tra virgolette dall'inflazione nel corso dell'ultimo secolo praticamente ovviamente la stessa inflazione del dollaro americano che sappiamo soprattutto in cento anni essere stata notevole però di certo una condizione quindi economica che non può essere paragonabile a quella del venezuela quella dell'argentina quella di altri paesi iper inflezionati in quest'area del mondo ovviamente questo è una città io sono proprio a panama city dove c'è uno skyline notevole fatto di grattaceloni paura un po' stile dubai ogni grattacielo praticamente corrisponde a una grande banca internazionale o a una grande azienda finanziaria che opera sui mercati fiat tradizionali quindi ero molto curioso di vedere come possiamo dirlo da questo punto di vista una delle capitali mondiali del mondo fiat stesse interagendo con le criptovalute con bitcoin in particolar modo e devo dire che mi aspettavo qualcosa di tra virgolette negativo ma mai così negativo nel senso che qui bitcoin praticamente non esiste nelle strade cioè noi non abbiamo trovato nonostante gli enormi passi avanti che bitcoin ha fatto in questi anni e nonostante panama non sia poi il paese del ben godi c'è una ampia fetta della popolazione che vive in condizioni di povertà c'è una disparità di reddito impressionante ci sono i ricazzi che girano in lamborghini e in ferrari ma poi c'è anche per esempio un 10% di popolazione afroamericana soprattutto discendenti direttamente degli schiavi che qui venivano importati durante la dominazione spagnola in gran numero per lavorare che vivono in condizioni di povertà anche estrema il 18% della popolazione vive statisticamente in condizioni di povertà estrema c'è comunque un considerevole numero di unbanked una grande fetta della popolazione milioni di persone non hanno nessun accesso al sistema finanziario tradizionale e quindi potenzialmente ci sarebbe spazio per un'economia alternativa in bitcoin eppure qui nessuno sa neanche che cosa sia io ho fatto io non sono riuscito a trovare un esercente disposto ad accettare bitcoin a panama e c'è una tm in culonia totale vicino all'aeroporto non a caso ma nemmeno i cambi a valute qui ti cambiano bitcoin quindi sono rimasto molto colpito anche se appunto era una cosa che in un certo qual modo mi aspettavo l'interazione che qui c'è con quel mondo lì è a livello finanziario cioè ci sono servizi di brokeraggio che vendono palate di bitcoin ai fondi di investimento alle aziende ma per quello che riguarda il vero motivo per cui bitcoin è stato inventato panama dimostra di essere quello che è uno degli epicentri del mondo fiat e quindi dove il concetto di bitcoin viene totalmente pervertito perverso pervertito perverso allora io perverso allora io di panama non so praticamente niente l'unica cosa che so non so se ti ricordi è lo scandalo famoso dei panama papers quindi di quel leak di tutti i documenti i conti offshore di praticamente tutte le persone che hanno un reddito sopra i 100.000 euro avevano anche un conto a panama e quindi sì sostanzialmente è probabilmente il paradiso fiscale per eccellenza quindi bitcoin potrebbe ma ti chiedo com'è il livello di povertà di penetrazione di unbanked che c'è a panama cioè ci sono persone esclude o sono tutti ricconi no ma l'ho appena detto bro cioè ce ne sono anche parecchi cioè la stessa panama city se stai nel centro storico che è il casco viejo che è quindi diciamo la parte più più coloniale anche se vogliamo più turistica della città è bellissimo lì ci sono hotel di lusso ristoranti di lusso se vai nella new panama dove ci sono i grattacieli idem ma il resto della città sono quartieri popolari con ma stile El Salvador stile sì non diverso dai quartieri più poveri di San Salvador assolutamente gente case scrostate fognature a cielo aperto sì sì certo per non parlare di altre zone fuori dalla capitale e se per ogni stato in cui c'è stato El Salvador hai trovato la comunità Bitcoin Beach Guatemala Bitcoin Lake Costa Rica Bitcoin Jungle la Panama c'è una comunità no non c'è una comunità che stia gestendo progetti di economia alternativa virtuosi come quelli che abbiamo descritto però per esempio sono stato messo in contatto e mi hanno contattato un gruppo di massimalisti bitcoin i Panamax così come vengono chiamati come si chiamano qua questo nome è molto figo con i quali sono uscito a cena con i quali ho avuto modo di interagire e che sono stati anche molto gentili con me perché appunto mi hanno descritto nel dettaglio alcune caratteristiche di Panama e devo dire che però anche analizzando questo gruppo di una ventina di persone con cui ho avuto modo di interagire ci sono delle caratteristiche abbastanza peculiari nel rispetto agli altri gruppi di bitcoiner che ho conosciuto negli altri paesi per esempio qui abbiamo una netta prevalenza di expat quindi di stranieri canadesi americani europei italiani ho conosciuto e quindi persone che sono imprenditori e che quindi sono venuti a Panama per motivi fiscali di fatto perché qui c'è una tassazione leggera e quindi hanno portato qui le loro aziende e le loro famiglie e anche pochissimi panamensi questo è un fenomeno che è presente dovunque lo abbiamo descritto però nelle comunità soprattutto nel Salvador sono tanti salvadoregni in Guatemala ho conosciuto tantissimi guatemaltechi quasi tutti guatemaltechi quelli che lavorano in aziende bitcoin o che sono nei gruppi dei bitcoiner guatemaltechi qui invece c'è una netta predominanza dei di 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 stranieri è che c'è poco da fare sono persone che hanno come dire hanno avuto successo nel mondo fiat e che quindi sì sono bitcoiner alcuni sono anche alcuni sono anche shitcoiner apertamente però la loro visione di bitcoin è quella del mondo fiat cioè investimento quando io ho chiesto alla tavolata ma quanti di voi usano bitcoin come metodo di pagamento non solo non dico quotidianamente ma abbastanza spesso è sceso il gelo nelle altre comunità di bitcoiner in centro america tutti usano bitcoin quotidianamente un po' perché hanno bitcoin e un po' perché vogliono smetterla di supportare il mondo fiat e questa invece è gente in molti casi che deve il proprio privilegio al mondo fiat anche in buona parte in gran parte ed è il motivo per cui sceglie di trasferirsi a Panama perché se uno sposta le proprie tutto quello che ha in bitcoin nel modo giusto che cosa gli serve il paradiso fiscale bitcoin è il paradiso fiscale per eccellenza se lo sai utilizzare in modo corretto da un punto di vista di privacy eh sì è il paradiso fiscale apolide esatto hai bisogno di una sede esatto tra le altre cose stride un po' è anche una cosa che spesso hai ripetuto tu cioè anche io utilizzo bitcoin alla fine mi sono interrogato e personalmente come lo utilizzo io beh la maggior parte del mio utilizzo va bene ci sosteniamo il bitcoin italia podcast ma il mio utilizzo principale è trasmissione generazionale di ricchezza cioè risparmio accantono quello che riesco per proteggere i miei risparmi e per cederli ai miei figli questo io alla fine della giornata è il cuore del mio utilizzo però so anche che utilizzare bitcoin va in questa direzione cioè se io voglio che sia davvero un passaggio di ricchezza generazionale beh il mio comportamento deve anche favorire l'adozione di questo strumento è per questo che io utilizzo bitrefill cioè nei limiti del possibile io al momento lo uso solo per fare la spesa per esempio però so che acquistando piccole quantità quello che mi serve per fare quello che avrei speso comunque per fare la spesa ogni settimana immetto utilizzo immetto liquidità e con questo piccolo comportamento favorisco cioè l'idea di mantenere bitcoin e basta secondo me va anche contro il proprio interesse non credi cioè se io lo tengo non lo uso mai non sto favorendo la crescita del potenziale economico di quello che anche io stesso però noi questa cosa la ripetiamo da tantissimo tempo e io ho intenzione di dedicare il mio lavoro nel 2023 ad abbattere a picconate il concetto di hodl a oltranza che secondo me è obsoleto ed è diventato purtroppo dannoso è controproducente per bitcoin l'hodler hardcore è dannoso tanto quanto lo shitcoiner secondo me per bitcoin e quindi ho intenzione di lavorare molto su questo punto quest'anno perché mi rendo proprio conto che c'è un ostacolo psicologico incredibile cioè quando parli di questo concetto la gente molti bitcoiner ti guardano come fosse un alieno e ti dicono ma col cavolo che io spendo i miei bitcoin che tra 15 anni varranno un milione di dollari non te lo ricordi e tipicamente ti dicono non hai imparato niente dallo scemo delle pizze e io lì mi incazzo e gli dico l'aslo è un eroe senza l'aslo probabilmente bitcoin non sarebbe dov'è quindi tu non sapresti neanche cos'è bitcoin porta rispetto ma c'è proprio questa preclusione mentale che c'è poco da fare però Guybrush se tu la analizzi nella sua essenza è una figlia malata della mentalità fiat è una forma mentis fiat quella di vedere bitcoin come un asset di investimento da conservare come se fosse un'azione di un'azienda senza rendersi conto che comprare azioni di un'azienda per poi non utilizzare i servizi di quell'azienda è un'idiozia che neanche l'investitore alle prime armi farebbe e quindi non ha senso neanche declinata secondo la logica fiat più pura eppure c'è ed è difficilissima da scalzare sai perché nella logica fiat secondo me al cuore di tutta la proposta è guadagnare senza lavorare quindi tu compri le azioni poi tanto gli altri faranno il lavoro quindi utilizzeranno i servizi e io guadagno e basta ci si aspetta questo dal classico investimento compro le azioni non faccio più un cazzo le azioni mi rendono questa cifra bitcoin tende a distruggere un po' questo concetto di rendita che è basata sul nulla però non ha solo questa proposta bitcoin tra le sue caratteristiche ha anche l'indipendenza l'incensurabilità il fatto per esempio che io in questi giorni ho dovuto fare dei pagamenti classici di inizio anno e mi sono reso conto di due palle ormai non ero più abituato faccio un pagamento bitcoin lo posso fare quando mi pare domenica sera venerdì notte invece no nel classico sistema fiat già se fai un bonifico alle venerdì alle 4 di pomeriggio già ciao devi aspettare tre giorni roba di questo tipo quindi ha diverse qualità in più per quanto riguarda il mero utilizzo probabilmente alle persone che si possono permettere di odolare all'infinito senza usarlo mai non hanno bisogno di nessuna delle funzionalità differenti sì ma comunque è un'idiozia questo loro punto di vista perché se loro applicano le stesse logiche che applicherebbero nel mondo fiat a un'azione di un'azienda devono darsi una svegliata e smetterla di credere alle favole bitcoin non è un asset bitcoin o meglio bitcoin se vogliamo è un asset rivoluzionario voi state comprando azioni di un movimento rivoluzionario che punta a sovvertire lo status quo se voi pensate che le rivoluzioni si vincano stando a casa seduti sul divano in mocassini e rolex have fun staying poor ma quindi pan se voi volete no no lo dico agli odlers have fun staying poor se voi state accumulando bitcoin per passarli ai vostri figli o ai vostri nipoti in modo che siano loro a poterne godere allora fate benissimo potete anche permettervi di non fare niente ma non siate ingenui se voi pensate che senza muovere un dito bitcoin possa arrivare al famoso milione entro dieci anni siete dei babbi di minchia se voi volete che bitcoin vinca la propria rivoluzione e quindi si apprezzi per cifre inenarrabili nel corso della vostra vita dovete imparare a capire che il network effect è diventato un elemento determinante perché le doti di incensurabilità immediatezza il lightning network funziona allo stato dell'arte e perché il prezzo di bitcoin non sale di conseguenza perché noi abbiamo appena raccontato che il 2022 è stato l'anno migliore di sempre eppure il net eppure il prezzo non ha rispecchiato questa tendenza che cosa manca manca il network effect e se non siete voi i primi a voler innescare il network effect in modo da creare un effetto domino un'economia alternativa in bitcoin che possa diventare un incendio e che possa portare il prezzo di bitcoin a moltiplicarsi esponenzialmente nel corso di un tempo relativamente breve have fun stay in poor voi bitcoin non lo vedrete neanche morirete e sarete mangiati dai vermi prima che i vostri bitcoin possano fare quello che volete che facciano cari hodler a morte siete cibo per vermi non godrete mai delle plusvalenze dei vostri bitcoin se non uscite da questa logica avida e imbecille ora naturalmente nessuno vi dice di spendere tutti i vostri bitcoin tutti noi stiamo risparmando bitcoin ma la via giusta per innescare il network effect e godere dei frutti dei nostri bitcoin è hodl spend and replace mettete i vostri risparmi in bitcoin spendete satoshi tutte le volte che potete per supportare i commercianti che per primi li stanno accettando e una volta che li avete spesi mentre tornate a casa e siete in metropolitana su pocket o su bitkeep ve li ricomprate hodl spend and replace conservare spendere e riacquistare quello che avete speso perché ogni volta che tirate fuori la carta di credito ogni volta che anziché pagare in bitcoin quando c'è la possibilità pagate in contanti euro dollari quello che volete state supportando l'economia fiat e quindi siete dei fiat coiner e quindi siete degli shit coiner fine allora manteniamo un comportamento proattivo e insieme affrontiamo tutte le sfide di self-cast o di spesa o dell'acquisto eccetera eccetera comunque bene noi nel nostro piccolo tra tutte le varie consigli che abbiamo dato e bitkeep e bitrefile cioè oggi proprio oggi ci hanno menzionato visto il nostro ascoltatore dice cavolo ho usato bitrefile la prima volta è veramente facile eh sì hai anche goduto del 5% di cashback in più spero col codice bitcoin italia esatto il modo migliore per iniziare un'economia circolare in bitcoin è ovviamente quella di collegarsi su www.bip.show consultare la sezione supportaci e mandarci delle donazioni lightning o delle donazioni on-chain ragazzi siamo felicissimi di essere tornati da voi per questo primo episodio della nostra quinta stagione l'unico motivo per cui dopo quattro anni passati siamo ancora qui ogni giovedì alle 17 a parlarvi di bitcoin è perché ci sono là fuori degli eroi i beepers che hanno deciso di sostenere la nostra missione economicamente il nostro è una specie di patto se ci ascoltate tutte le settimane se vi siamo utili se comprendete per quale motivo c'è bisogno del bitcoin italia podcast nel panorama italiano dovete sostenerci per garantire al beep show di poter continuare ad esistere che ne so magari potenzialmente per sempre quanto donare lo decidete voi ogni quanto donare lo decidete voi ma se ci ascoltate ogni settimana dovrete assolutamente assumervi la responsabilità di essere beepers attivi e quindi di sostenerci con una donazione nella sezione supporta ci trovate tutti i modi con cui potete supportarci bitcoin è il nostro preferito mi raccomando ragazzi quindi anche se siamo provocatori anche se vi diciamo la verità che non volete sentirvi dire noi serviamo proprio per questo quindi sosteneteci we are legion siamo un esercito vinciamo perché siamo inevitabili allora amici ricominciate a scriverci su twitter il nostro handle beep underscore show o bitcoin italia podcast nel motore di cerca di twitter oppure menzionateci che nelle vostre discussioni infiammate il mio handle di twitter è guy brascino quello di ricchi e ricchi 6 ho visto che in questo periodo il dibattito si potrebbe spostare anche sul nostro sarà il mio impegno entro la fine del mese arriva arriva arriviamo anche noi su nostro arriva arriva oppure scriveteci un indirizzo email all'indirizzo un email all'indirizzo email show chiocciolabip punto show caro guy brush tra poco torno in italia quindi non vedo l'ora di poterti riabbracciare di tornare nel tuo stesso fuso orario nel frattempo prossima settimana tiriamo un po' le somma o da chiederti dei resoconti assolutamente assolutamente preparatevi nel frattempo ragazzi ricordatevi che quest'anno il bitcoin italia podcast sarà con voi puntualmente ogni settimana perché la nostra destinazione guy brush è inelusorabile è ineluttabile è inevitabile ed è quella guy brush alza il mento alza gli occhi al cielo in una notte terza e stellata la vedi quella grande stella luminescente lo vedi il nostro satellite come ruota imperterrito attorno alla terra vedo la luce del bagno è quella la nostra destinazione guy brush non la luce del bagno ma la luna perché noi andiamo to the moon ciao Grazie a tutti Grazie a tutti